ciao a tutti per la ricetta di oggi vi occorreranno pochi ingredienti petto di pollo patatine e olio di semi e naturalmente il sale per prima cosa schiacciate le patatine nella bustagliosa così passate le fettine nell'olio prima in questa maniera e poi nelle patatine così aggiustate di sale così con questo che ne esce così poco e infornate a 180 gradi per 20 minuti le mie cotolette impanate con le patatine sono super croccanti guardate sentite anzi la consistenza spero che questa video ricetta vi sia piaciuta io vi lascio alla prossima un bacio ciao 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 ciao